Grazie a tutti Vabbè allora ci avviciniamo e come possiamo notare l'aquila sta sugli Stati Uniti Questo perché? Perché diciamo è un riferimento al fatto che gli Stati Uniti tendono a voler spadroneggiare sul resto dei paesi del mondo Infatti come potete vedere con tutte le guerre in Siria, Afghanistan insomma tendono sempre a voler comandare Comunque passiamo ad una cosa un po' più semplice Sulla barca Speeder e anche su altri veicoli è possibile vedere nel GPS la mappa di GTA 4 GTA 4 di cui ho fatto video vi lascio la playlist come al solito per vederli E la barca dopo che la comprate è gratis per averla dovete chiamare la Pegasus dalla rubrica E ve la porteranno al molo più vicino e voi dovete andare al molo a prenderla Allora un'altra cosa molto particolare come da titolo è la possibilità di poter chiamare tutti i membri della famiglia De Santa Adesso per vedere i numeri dei tre cellulari che andiamo a chiamare andate in descrizione E adesso vabbè sto zitto finché parlano Oltre alla famiglia De Santa sarà possibile chiamare anche molte altre persone Vi lascio in descrizione i numeri di tutti i numeri chiamabili ecco tutti i numeri raggiungibili E la cosa molto particolare adesso andiamo a sentire Amanda che farà ridere il finale This is Amanda Unfortunately I can't come to the phone right now Namaste Namaste Addirittura nella serreria ha messo la roba dello yoga Proprio malata Per ultima Tracy Che farà anche una battuta Intanto guardate qualcuno è caduto lì davanti Ma che succede? Guarda come corre General Mind Ci siamo incrociati Avete sentito che scherzosa Che monella Che è Tracy Passiamo all'ultima cosa Un bel riferimento a GTA San Andreas Welcome back Allora siamo vicino a casa della zia di Franklin Ecco qua S.A. ovvero San Andreas Welcome back We missed you last time Ci sei mancato l'ultima volta Coi colori ovviamente Di Grove Street Ed è per l'appunto un riferimento al gioco GTA San Andreas Alle famiglie di Grove Street E dunque anche a CJ e tutti gli altri bidoni Ci facciamo una bella foto ricordo Per questo video è tutto Vi ringrazio per la visione Ci becchiamo al prossimo episodio Ciao